A 180 minuti dalla conclusione del campionato di promozione, il draw ha sul proprio terreno una chance importante per ritagliarsi una buona fetta di promozione. Una vittoria oggi potrebbe anche significare eccellenza se Levico e Calcio Chiese non dovessero vincere. L'Azzurra non avversario temibile sulla carta, non vince infatti in campionato da 9 partite e la cura corratella non ha ancora assordito effetto. Gli uomini di bandera hanno ripreso il ritmo che li ha riportati in vetta e sul rettangolo di casa sono imbattuti addirittura dal 25 settembre scorso. L'inizio della capolista è buono ma dopo un tiro di Bortolotti al nono all'undicesimo arriva la doccia gelata. Angeli rinvia sui piedi di Pontalti che ringrazia e porta in vantaggio l'Azzurra. La rete scatena la rabbia dei droati. Al diciassettesimo Baldo dal limite centra la traversa e al ventitreesimo per due volte l'Azzurra rischia sui tiri di Calcari e Poli. Il tiro alto al ventiseiesimo di Chesani è l'ultima emozione del primo tempo perché nel draw subentra una certa ansia da prestazione che annebbia le idee. Il draw riprende però subito a martellare nella ripresa e dopo due minuti Bortolotti gira male di testa da due passi. Al nono si rivede in contropiede l'Azzurra con Angeli che salva su Piffer. All'undicesimo cambio per il draw. Fuori Bortolameotti e dentro la terza punta Cristiano Molon. La pressione degli uomini di Bandera continua e al diciottesimo Baldo trova ancora la traversa da fuori. È inevitabile però lasciare qualche spazio indietro e per poco l'Azzurra non ne approfitta. Minuto ventidue. Prima son si vedere spingere la palla dalla traversa poi è miracoloso Angeli sul tentativo di tap in di Piffer. Passato lo spavento il draw torna a spingere e al trentunesimo trova il meritato pareggio. Molon devia da due passi il suggerimento di Bortolotti e il campionato è ancora riaperto. A questo punto i padroni di casa capiscono che possono vincere e a cavallo del trentaseiesimo minuto vanno vicino al vantaggio per due volte con Finotti. I loro sforzi vengono premiati al quarantunesimo quando ancora Molon mette in rete con un bel tocco e regala la matematica promozione al draw. Gli ultimi minuti sono soltanto una spasmodica attesa aggrappati alla radiolina. La vittoria del San Giorgio e il pareggio del Levico scatenano la festa del draw che con una giornata d'anticipo è matematicamente in eccellenza.